Buon pomeriggio a tutti, siamo quasi pronti per questa diretta, aspettiamo ancora qualche collega perché è ancora presto, quindi... Grazie. 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 E condividerlo magari in qualche gruppo... Ci siamo quasi. Grazie. Bene, ciao a tutti. E' la prima volta che faccio sia il relatore che il regista e quindi è abbastanza difficile direi. Quindi se qualcuno dei colleghi cortesemente riesce a condividere questo webinar in giro per i gruppi o comunque per i gruppi che conoscete, non sono riuscito nemmeno a condividerlo su riabilitazione. Quindi vi invito cortesemente a condividerlo. Inizieremo fra qualche minuto. E' tutto pronto. E quindi spero di riuscire a raggiungere tutti i colleghi che si sono interessati a questo argomento. E' un argomento molto particolare. E' un argomento che ci vede in prima linea come fisioterapisti. E quindi sicuramente è interessante. Ho cercato di fare una relazione abbastanza pratica, come vedete già dalle foto, per cercare di dare il massimo dell'informazione. Bene. Sentite bene la mia voce? Mi date un feedback? Ciao Sergio, ciao Isabella. Mi sentite bene per piacere? Mi date un feedback? Aspetto un vostro segnale per dirmi se mi sentite bene. Perfetto. Ok. Allora possiamo procedere. Adesso sono le 18. Cerchiamo di essere precisi. Io vi saluto tutti e vi ringrazio per questo vostro interessamento. Aspettiamo anche dei colleghi stranieri rumeni, indiani e dell'Ucraina che sono miei miei allievi dei corsi che faccio all'estero. Quindi spero di farvi farvi passare qualche momento interessante con delle notizie abbastanza recenti, abbastanza anche di esperienze personali. Infatti adesso io inizio subito e inizio praticamente con la mia esperienza fatta. Allora io sono fisioterapista in scienze motorie e praticamente ho fatto per dieci anni fisioterapista dalla nazionale italiana di pattinaggio a rotelle. Durante questi 10 anni praticamente ho avuto la fortuna di andare in giro per il mondo e di conoscere tante tecniche. Infatti il tapping kinesiologico io l'ho appreso direttamente in Corea dal medico della nazionale coreana. Ecco perché la mia impostazione è un'impostazione diversa di tapping. Ecco perché lo applico in una maniera particolare. Ecco perché per lì esiste. Allora vi ho riportato in questa slide tre articoli che ho pubblicato negli anni in cui ero fisioterapista dalla nazionale di pattinaggio che ho pubblicato nel mio sito e anche nel sito della federazione. Per esempio questa è un'analisi posturale e biomeccanica per ottimizzare le prestazioni sportive del pattinatore. Questo lavoro è stato molto interessante anche perché dovete sapere che il pattinaggio a rotelle velocità che sembra un'attività sportiva simmetrica in effetti è un'attività sportiva asimmetrica. Perché? Perché i pattinatori quando fanno le gare su pista loro girano sempre verso la loro sinistra. Quindi praticamente in curva loro pattinano incrociando la gamba destra sulla gamba sinistra. Ecco questo incrocio in modo specifico crea delle asimmetrie muscolari e comunque anche di assetto diciamo del bacino. Ecco perché noi facevamo fare agli atleti tutto il lavoro di compenso per cercare di andare a compensare questa azione asimmetrica. Un po' come quella che si fa fare ai marciatori dell'atletica leggera che fanno le gare su pista. C'è la gara su strada ma c'è la gara su pista quindi la gara su pista purtroppo ti costringe a girare sempre dallo stesso lato e quindi molto spesso può dare delle patologie da sovraccarico per asimmetria di spinta. Ecco questo primo che vedete è un bel lavoro che ci ho messo tantissimo. Come sapete mio figlio è stato campione mondiale di pattinaggio quindi avevo diciamo a chi dovevo studiare ce l'avevo direttamente in casa e quindi avevo il modello ecco non mi veniva il tempo avevo il modello in casa e quindi potevo studiarlo bene. Ecco questo è un bel lavoro questa è il link e trovate questo lavoro poi ho fatto un lavoro sulle patologie del piede del pattinaggio a rotelle e quindi dovete sapere che il movimento che fa il pattinatore è un movimento di doppia spinta molto particolare perché porta il peso internamente e esternamente rispetto alle ruote e quindi questo tipo di movimento di prono diciamo di basculamento del piede se non è perfettamente centrato sia il fusto dove vengono messe le ruote che la scarpa ecco può dare delle problematiche ai piedi e quindi questo è uno studio che ho fatto con la Nazionale Giovanile insieme al CT Giulio Ravasi e insieme al medico Alfio Stuto quindi questo è un bel lavoro di qualche anno fa ma sempre interessante. Poi ho fatto uno studio sulla simmetria di spinta quindi come si fa a stabilire in uno sport anche ciclico quale può essere pensate anche un podista un runner come si fa a stabilire se la gamba destra e la gamba sinistra spingono con la stessa forza ecco qui ho messo a punto tre test specifici che diciamo danno delle buone indicazioni e queste come vedete sto parlando di qualcosa di funzionale e già sto cominciando a introdurre quello che è il concetto di postura vista come una come una problematica funzionale non posturale vista come forma come simmetria ecco la simmetria è fine a se stessa invece praticamente noi dobbiamo avere una una visione funzionale quindi cominciamo a introdurre un concetto che è quella di armonia quindi il concetto di movimento armonico dove c'è una successione di contrazioni muscolari degli adattamenti dell'apparato muscolo scheletrico quindi la parte articolare i legamenti e così via. Quando viene a mancare questa armonia quindi questo movimento armonico ecco la postura armonica vedete allora si possono avere delle problematiche di overuse quindi di sovraccarico funzionale ma non solo di sovraccarico funzionale perché possono incidere anche sulla performance ecco ritornando al pattinatore che ha l'adduttore di destra visto che è quello che si incrocia durante la curva che si incrocia con la destra e l'adduttore di destra spesso risulta arretratto oltre a dare una problematica inserzionale degli adduttori e quindi una sindrome pubalgica ci può dare anche una problematica di performance perché quando il pattinatore si trova a pattinare sul diritto quindi sta pattinando sul rettilineo ecco molto spesso vedevamo questi atleti che la gamba di destra non le stendevano completamente e quindi non finivano la spinta quindi questo qua diventa molto interessante, molto importante dopo vi farò vedere un'immagine del test che io facevo ai ragazzi della nazionale e quindi per ottimizzare la performance poi rendere economica l'azione motoria sia come dispendio energetico ma anche come usura delle strutture anatomo funzionali cioè oggi noi faremo l'analisi sulla spalla degli sport overhead quindi degli sport dove c'è un'azione sopra la testa quindi giavellotto, tennis, baseball ecco se la testa dell'omero non è perfettamente centrata nella cavità glenoidea io avrò sicuramente un'usura quindi io consumerò la mia cartilagine io farò lavorare in una maniera non funzionale armonica il concetto di armonia è importante in una maniera non armonica le strutture capsulo-legamentose quindi capsulo-legamentose e muscolare quindi oltre a ottimizzare la performance mi serve anche come prevenzione dei traumi da overuse presente e futuro perché se un'articolazione viene usurata magari non avrò una sindrome infiammatoria adesso ma nell'arco della vita potrò avere delle problematiche ok? adesso andiamo avanti e qui potete trovare praticamente una serie di studi pubblicati su PubMed ok? sulla reddizione posturale e lo sport vedrete che la letteratura internazionale è molto ricca e c'è stata un'evoluzione metodologica notevole dove prima si parlava di simmetria come forma e adesso si parla di simmetria come armonia e quindi cominciamo a entrare in quello che è lo specifico della nostra relazione quindi praticamente la postura perfetta non esiste perché noi siamo alla ricerca della buona postura verso l'armonia funzionale quindi ognuno di noi è alla ricerca di un suo equilibrio posturale e quindi di vincere la forza di gravità che lo schiaccia verso il suolo ecco, ognuno di noi adotta dei compensi adotta delle strategie per cercare di vincere questa forza di gravità e quindi si formano dei compensi ecco, ricordiamo questo termine compensi perché ci servirà dopo perché la postura è personale quindi io non posso pensare di fare un'analisi posturale cercando la perfezione ecco, questo concetto di perfezione e o trofismo diciamo, adesso è passato un attimino in secondo piano perché la cosa fondamentale è quella di trovare una postura appunto armonica quindi nel caso della rieducazione posturale che noi vogliamo progettare per il nostro atleta ecco, la cosa fondamentale è fare una distinzione abbiamo un atleta asintomatico quindi non ha nessun sintomo vuol dire che i suoi compensi lo rendono armonico quindi cosa succede? io devo cercare di migliorargli il gesto sportivo ma rispettando le sue caratteristiche personali ok? quindi se mi rendo conto che quel movimento che quel movimento durante la battuta sta creando una sollecitazione eccessiva alla cuffia dei rotatori quindi può diventare usurante ecco, cercheremo di proporre una biomeccanica sempre in equip con l'allenatore, il tecnico e il preparatore atletico quindi cercare di trovare una soluzione per usurare meno queste strutture invece nel caso in cui mi trovo con un atleta sintomatico quindi ha una sintomatologia e questa sintomatologia io dovrò andare a fare un'analisi biomeccanica e cercare di capire dove è l'origine di questa sintomatologia da dove arriva c'è un compenso che sta creando disarmonia vedete? sta creando disarmonia e quindi sta creando sta dando come segnale il dolore quindi l'overuse importantissimo fare l'esercizio terapeutico quindi che sia personalizzato e diventa fondamentale in questo caso l'esercizio terapeutico ok? ma non dobbiamo andare a cercare le simmetrie posturali noi dobbiamo cercare un equilibrio funzionale ottimale adesso andiamo a vedere alcuni concetti appunto sempre dell'armonia la forza di gravità che dicevo prima è riconducibile alla biomeccanica del movimento e quindi dobbiamo alleggerire il sovraccarico funzionale quello che mi sta dando la sintomatologia ricordiamo che la postura è determinata dall'adattamento personale all'ambiente fisico, psichico ed emozionale quindi ha una serie di motivazioni che sono veramente molto profonde e molto importanti ok? quindi non dobbiamo pensare solamente all'aspetto esteriore all'aspetto estetico ma dobbiamo pensare all'aspetto funzionale ecco la visione posturo-cinetica di Claude Altieri è molto interessante perché superando il modello posturale del padre della posturologia Gaillet del 70 praticamente che era più legato a quello che erano i muscoli e quindi un qualcosa di molto analitico adesso invece stiamo andando verso la coordinazione senso-motoria quindi abbiamo una visione dei recettori abbiamo una visione di tutte le integrazioni che avvengono al livello del sistema nervoso centrale e quindi del sistema tonico-posturale quindi il modello che si utilizza schemi motori registrati al livello del cervello senso-motorio ok? quindi ecco secondo questa la teoria di Claude Altieri gli aggiustamenti posturali anticipatori ecco ci sono queste due tipologie but up quindi praticamente dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto praticamente questo dove al centro ci sta il supremo quindi ci sta il sistema nervoso centrale questa è una teoria molto interessante che vi invito ad approfondire perché il deficit posturo cinetico viene visto come un qualcosa di funzionale quindi noi dobbiamo andare ad analizzare una funzione per cercare di armonizzare la postura ecco sicuramente molto importante anche l'aspetto viscerale infatti Claude dà molta importanza al concetto e all'aspetto viscerale questa è un'immagine riassuntiva della sua tecnica vedete? dove abbiamo i traumatismi e abbiamo invece la deficienza neurointegrata e quindi praticamente questi vanno a creare quello che è un disturbo una disfunzione posturale molto interessante la legge di Enman praticamente questa legge è la legge per la quale le fibre muscolari vengono reclutate non tutte insieme ma in base alla loro dimensione quindi quando arriva il messaggio dal cervello quindi dal supremo arriva il messaggio di attivare un certo movimento i primi muscoli che vengono attivati sono i muscoli più piccoli quindi le unità motori più piccole e dopo vengono attivate le unità motori più grandi vengono reclutate solamente nel caso in cui abbiamo una situazione di pericolo una situazione dove facciamo un movimento su un supporto instabile per esempio dove praticamente l'equilibrio metta a dura prova questo tipo di attivazione allora a quel punto si inverte e quindi abbiamo un reclutamento a fibbie invertite ecco questo a mio avviso è interessante quando facciamo un'analisi biomeccanica di un movimento disfunzionale e quindi da tenere presente perché è importante avere una postura armonica nello sport? ecco questo è un po' il concetto che abbiamo già sviluppato quindi ottimizzare la performance a rendere economica l'azione motoria quindi sia come dispendio energetico che come usura delle strutture quindi le strutture anatomofunzionali dobbiamo cercare di non consumarle quindi a livello cartilagineo a livello tendineo e muscolare stesse e poi una prevenzione dei traumi per overuse ecco molto spesso quando scusate io non vi saluto perché non vedo praticamente i nomi nella colonna vi saluto tutti ma non nello specifico quindi vi ringrazio vedo che siete tantissimi e quindi sono contento adesso alla fine di questa relazione farò vedere invece tante tecniche di vendaggio dove praticamente tutto ciò che stiamo dicendo all'idello biomeccanico lo trasformiamo in tecniche di vendaggio ok? quindi molto spesso si dedica molto tempo all'allenamento e invece bisogna dedicare anche del tempo alla postura statica e dinamica per cercare di ottimizzare e armonizzare questa postura adesso andiamo a vedere anche un altro aspetto caro al mio amico Filippo Cagliazzo praticamente questi sono alcuni test che Filippo Cagliazzo propone sono sempre come vedete test funzionali che sicuramente già conoscete e la cosa fondamentale della disarmonia di Filippo Cagliazzo è l'immagine che i recettori o comunque alcune zone del corpo dove ci sono delle retrazioni dove ci sono delle disfunzioni sono come una macchina che può avere una ruota sgonfia che può avere tutte e due le ruote sgonfie capite che se una macchina ha le ruote sgonfie che consumerà sicuramente queste ruote perché il contatto è maggiore e consumerà di meno gli altri ecco trasportiamo questa immagine quello che è il nostro equilibrio corporeo quindi l'armonizzazione della postura capite come una problematica per esempio al piede una problematica di pronazione del piede del piede destro mi sta dando una disfunzione del movimento e quindi mi sta dando una problematica che si ripercuota su tutto il corpo quindi questi sono alcuni testi cono posturale Fukuda De Chon e Bassani questi sono alcuni testi che io utilizzo normalmente nella mia analisi posturale e funzionale iniziale ecco questo è un aspetto molto interessante che abbiamo sviluppato anche con la nazionale di pattinaggio quindi molto spesso l'alluce l'alluce si può bloccare quindi il primo metatarso dovrebbe avere 65 gradi di flessione dorsale e come vedete vedete questo praticamente qua abbiamo l'arco plantare vedete quindi che succede sono a 65 gradi però l'arco plantare viene stimolato vedete invece qui abbiamo l'alluce che va addirittura ancora più indietro e l'arco plantare che non tiene ok allora questo sicuramente è una disfunzione come ci può essere un alluce rigido ecco cosa ci può dare un alluce rigido per esempio è solamente da una parte ci può dare nei runner una simmetria del passo quindi la falcata quando il runner si trova in appoggio sul piede disfunzionale il passo che farà con la gamba opposta sarà più corto perché? perché l'alluce è rigido e quindi non gli permette la spinta la rullata del piede quindi questi qua sono sicuramente degli aspetti molto interessanti questa invece è una tecnica di Vassili poverino che adesso non c'è più ci ha lasciati è praticamente molto interessante perché non so se qualcuno di voi la conosce i podologi la conoscono sicuramente praticamente viene tracciata quest'asse longitudinale vengono tracciate queste due fossette che sono accante ai malleoli poi si fa impiegamento del ginocchio verso il secondo metatarso e si vede praticamente se c'è una disfunzione del piede quindi se il piede va in pronazione o va in supinazione molto interessante anche l'appoggio monopodalico quindi si va in appoggio monopodalico e si vanno a controllare queste due fossette e si vede se l'asse che abbiamo tracciato precedentemente rimane diritto oppure si forma una retta spezzata quindi terzo superiore della tibia il centro del mortale astragalico e la seconda testa metatarsale questi sono le tre X che vedete questa invece è una stabilometria da campo fatta in modo molto casereccio e che però ci dava dei risultati interessanti perché praticamente ho messo due bilanci un po' il lavoro che facciamo quando facciamo mettere in carico le persone che hanno una disfunzione nel cammino per esempio e a occhi chiusi a bocca aperta e occhi aperti oppure nella posizione del pattinatore che praticamente deve avere un piegamento del ginocchio a 110 gradi e anche del busto a 110 gradi con le braccia nella posizione che hanno loro io andavo a guardare la simmetria di carico quindi la simmetria di carico fra il piede destro e il piede sinistro questo può essere un parametro molto interessante uno perché può dare una disfunzione al livello della colonna al livello di alcune articolazioni dove c'è più carico e due per la performance quindi questi sono tutti i campioni del mondo quelli che vedete qui anche se hanno il body della loro società io lavoravo per questa società quindi questa qua è sicuramente interessante costa pochissimo e può essere interessante andiamo a vedere un programma per un atleta che presenta disarmonia quindi anamnesi dell'atleta vediamo i traumi che ha avuto vediamo se ha avuto qualche intervento chirurgico e quanta le cadute ecco nel pattinaggio molto importanti le cadute non bisogna sottovalutarle i pattinatori generalmente picchiano i grandi trocantere e questo porta a un disassamento del bacino disassamento del bacino che porta irrimediabilmente una lombalgia oppure una sindrome pubalgica quindi ecco andiamo a verificare tutte queste cose un esame podalico baropodometrico se è possibile esaminiamo un paio di scarpe consumate nel caso del runner per esempio è molto importante perché ci dà il carico ci dà eventuali asimmetrie di spinta che può avere l'atleta osservazione classica statica, dinamica e funzionale dei recettori quindi vado a vedere anche a livello oculare vado a vedere e quindi diciamo a livello generale l'ATM e quindi tutto quello che viene fatto in un'analisi funzionale e poi vado a fare un'analisi globale del gesto tecnico che provoca dolore quindi vado a vedere questo gesto tecnico e cerco di capire che tipo di disarmonia sta creando questa patologia di questo mio atleta questo mio paziente quindi farò una programmazione di riepidio globale con esercizio terapeutico specifico e quindi cerco di andare ad affrontare in maniera globale questo tipo di problematiche questi sono alcuni aspetti guardate questa praticamente è la nazionale tutto quello che vedete da questo lato qua sono le osservazioni che facevo alla nazionale vedete qua sto facendo una misurazione della dell'apertura quindi degli adduttori avevo una linea centrale un goniometro e segnavamo questa è un'allenatrice e segnavamo tutti i parametri che risultavano da questa valutazione questo è un campione mondiale di schirol qui sto facendo un'analisi posturale con il laser vedete e sto cercando di capire le eventuali asimmetrie che poteva avere e che mi davano una disfunzione sull'arto di destra una sindrome della bendelettio iliotibiale questa invece è una normalissima carta podometrica ecco io perché uso la carta podometrica da fisioterapista perché poi mando il mio paziente che mi risulta disfunzionale come questo vedete che differenza di carico lo mando dal podologo mio di fiducia quindi io chiudo la carta la piego gliela do al paziente e lo mando dal podologo il quale farà una sua valutazione approfondita e se il caso proporrà di fare i plantare o comunque quello che c'è da fare questo guardate questo appoggio come strano con questa cicatrice qui vedete quindi questa è una disfunzione di carico una disfunzione di carico un altro aspetto molto interessante questo ve lo voglio far vedere meglio è questo che ho fatto che ho fatto con dei sollevatori guardate questa l'impugnatura di questo bilanciere alla fine dell'esercizio come asimmetrico questo paziente ha una problematica alla spalla destra che poi io gli benderò vedete con questo vendaggio biomeccanico ha un problema alla spalla destra e qui lo vediamo ancora vedete come la testa è proiettata avanti guardate qui come il braccio va all'indietro e qui addirittura in questa trazione si vede ancora meglio guardate come anticipa di braccio destro vedete quindi anticipa chiude e quindi questa è una simmetria è una simmetria del movimento quindi il movimento non è armonico ecco da dove è l'origine del sovraccarico funzionale quindi andiamo a fare un'analisi di questo genere quindi della biomeccanica e cerchiamo di affrontare la problematica anche da questo punto di vista sicuramente la diciamo il lavoro d'equip è quello vincente quindi noi non possiamo fare tutto da soli noi dobbiamo sempre appoggiarci a dei professionisti specialisti che ci aiutano e poi dopo cerchiamo di tirare insieme un po' tutto e vedere come possiamo aiutare il nostro paziente certamente non possiamo essere tuttologi chi fa il tuttologo sbaglia già in partenza scusate ma bevo un attimo ecco stavo dicendo proprio che chi fa il tuttologo sicuramente sbaglia già in partenza perché non si può sapere tutto bisogna cercare sempre l'aiuto dello specialista di altri specialisti quindi troviamo spesso delle rigidità proviamo delle tensioni muscolari delle retrazioni fasciali delle cicatrici che nemmeno il paziente conosce e così via ok quindi un programma di compenso personalizzato per migliorare la elasticità muscolare ottimizzare il gesto sportivo efficace ed economico esercizio terapeutico globale per permettere dei movimenti armonici ed economici ecco questo è un po' diciamo un programma un programma di massima adesso passiamo a un altro ecco questo è interessante vedete qui sto facendo l'esercizio terapeutico con un vendaggio stabilizzante ecco questi qua erano delle prove di vendaggio diversi per cercare di capire e decidere con il paziente qual era la tecnica che sentiva più stabile quindi per cercare di stabilizzare un'articolazione che era deficitaria in questo caso era disfunzionale ok ecco adesso praticamente stiamo cambiando vidimo cioè cerchiamo di parlare di una patologia specifica come ho scritto prima nel titolo praticamente degli sport overhead quindi gli sport overhead che sono tutti quelli che avvengono sopra la testa quindi può essere il giavellotto può essere appunto il baseball il tennis che portano praticamente una sollecitazione veramente notevole alla spalla ecco andiamo a vedere quelli che possono essere le predisposizioni quindi la predisposizione può essere costituzionale abbiamo lassità capsula legamentosa isquilibrio della muscolatura intrinseca della spalla alterazioni posturali qual è un'alterazione posturale che incide molto sulla spalla e che io spesso cito nei post di facebook praticamente il piano scapolare e in questo caso si parla di aumento della cifosi dorsale questo studio che ha fatto questo specialista ok quindi che succede nel momento in cui ho un aumento della cifosi dorsale avrò una difficoltà nello scivolamento della scapola sul piano costale questo mi crea una difficoltà quindi mi crea un attrito e quest'attrito può dare una problematica di sovraccarico funzionale ok quindi mi crea dei veri e propri problemi di usura quindi le coppie di forze equilibratici della spalla sul piano frontale sono i deltoide e il muscolo sovraspinoso e che poi agiscono appunto per stabilizzare a livello craniocaudale l'omero la testa dell'omero e poi anteriormente invece abbiamo il sottospinato e il piccolo rotondo ok andiamo a vedere qualche immagine vedete immagine di repertorio prese da altri lavori qui mi voglio soffermare in quello che è il teaming scapolare quindi la scapola come deve assecondare il movimento del braccio dell'arto superiore e quindi per cercare di evitare degli stress eccessivi all'articolazione scapolo-omerale nel suo insieme quindi se la scapola ha una problematica di sincinesia per esempio pensiamo un accorciamento muscolare del sottoscapolare del piccolo rotondo e così via del grandorsale ecco questo ci può dare una problematica una problematica di mobilità e quindi ci può essere può dare origine a un sovraccarico funzionale un'altra coppia equilibratrice per l'abduzione è il trapezio superiore e grandentato e qua vediamo proprio qua vediamo il movimento e la seconda il teaming della scapola quindi la scapola che ha a seconda il movimento la cosa fondamentale nei movimenti della spalla è che la testa dell'omero deve essere sempre centrata dentro la cavità glenoidea se non è centrata dentro la cavità glenoidea e quindi forma quest'unicum articolare si può avere un impeachment secondario quindi che cosa succede che abbiamo una risalita della testa dell'omero o comunque un omero che non è in sede normalmente quindi le alterazioni fisiologiche della scapola appunto le discinesie di cui parlavo prima primaria o secondaria vedete o possiamo avere addirittura bisogna analizzare anche gli schemi di reclutamento secondo quello che è il concetto chinese fotologico della SARMA ecco diventa molto importante e vedremo dopo come abbiamo un concetto fondamentale di BEVOR della sincronizzazione del movimento quindi della contrazione muscolare guardiamo le sollecitazioni di una tennista vedete come mette a dura prova la spalla siamo veramente a sollecitazioni pazzesche e se la spalla si trova in una situazione di non equilibrio armonia muscolare andrà soggetta a un sovraccarico funzionale e quindi potrà dare pian piano una sintomatologia dolorosa ecco adesso io vi parlo del concetto del metodo coreano che io ho messo a punto con il tepichinesiologico partendo da un concetto fondamentale che è l'assioma di Bevole neurofisiologo quindi il cervello non riconosce singoli muscoli il cervello riconosce il movimento quindi io devo bendare il movimento non posso bendare un singolo muscolo bendare un singolo muscolo è un obiettivo molto parziale ecco molto spesso è sintomatologico quello non è biomeccanico io devo cercare di trovare una soluzione biomeccanica per permettere un sostegno un sostegno all'ammovimento quindi io bendo movimenti io non bendo singoli muscoli questo deve essere fondamentale ecco queste sono le catene cinetiche quindi praticamente addirittura ci rifacciamo a quello che è il principio del cabat allora qui come vi ho fatto vedere gli studi sulla rieducazione posturale qui vi faccio vedere gli studi sul tapping e vi faccio vedere il dynamic tape perché vi faccio vedere il dynamic tape perché in effetti è l'unico in questo momento che quindi il dynamic tape di Ryan Kendrick ok è l'unico che ha degli studi pubblicati perché purtroppo il chinesio tapping ha pochissimi studi e molti sono diciamo incerti quindi ecco perché vi faccio vedere proprio questi studi addirittura sono tantissimi quindi perché sono state fatte tantissime osservazioni adesso andiamo a vedere nel caso specifico appunto una una tecnica facilitante durante la performance quindi pensiamo che questo atleta è un pallavolista e che ha una problematica alla spalla in fase di caricamento della battuta per esempio ecco secondo queste traiettorie vedete che vengono studiate chiaramente con la biomeccanica personale del paziente dell'atleta ecco si va a supportare questa sua il movimento ecco qui per esempio è un'altra tecnica questa è un'altra tecnica che però fa parte diciamo della è sempre biomeccanica ma viene in questo caso sto utilizzando un nastro in cotone ecco io adesso oramai non uso più il nastro in cotone ma uso solo i nastri in seta e uso solo il dynamic tape questa è invece una tecnica decompressiva e nello specifico è drenante vedete tutte le grinze che fa qui quindi pensiamo un'edema quindi in una fase infiammatoria acuta quindi una fase infiammatoria acuta devo cercare di drenare l'edema della spalla oppure in una fase postchirurgica per esempio questa può essere una tecnica interessante qui abbiamo invece una tecnica decompressiva vedete che ho tre ventagli che si incrociano nella spalla e mi permettono di decomprimere decautare l'articolazione invece adesso qui passiamo direttamente al dynamic tape quindi stiamo parlando di un nastro diverso vedete Ryan Kendrick è un nastro in licra non ha non ha uno stop rigido che significa stop rigido significa che il nastro a fine corsa ha ancora possibilità di allungarsi e questo diventa fondamentale nello sport ecco questa è la spalla del sollevatore di prima vedete io qui ho fatto una serie di tiranti per cercare di stabilizzare a livello biomeccanico la sua spalla e quindi permettergli di allenarsi e nel frattempo faceva degli esercizi praticamente un esercizio terapeutico per cercare di andare a ripristinare un movimento armonico della spalla questo è un campione è un primatista mondiale di lancio del disco paralimpico vedete e qui c'è una traiettoria complessa tridimensionale come la definisco io dalla spalla molto efficace qui invece ci troviamo appunto come sostegno nel fitness quindi fitness e sport sono a mio avviso sono diversi come tipologia perché lì abbiamo una performance delle prove invece nel fitness abbiamo delle degli obiettivi diversi diciamo ecco questo è per supportare quello che è un esercizio appunto all'hat machine e di trazione ok come nasce un vendaggio nasce dal gesto tecnico quindi io vedo il gesto tecnico e devo cercare di andare a supportare il gesto tecnico ok qui abbiamo questo è un tennista classificato ai tempi quando ho fatto questo studio che ho presentato a un congresso questo studio è stato presentato al congresso di Salerno Fisciano adesso non mi ricordo l'anno preciso quindi per concludere cosa dobbiamo dire che noi dobbiamo cercare di avere una visione globale e tridimensionale e dobbiamo prendere come obiettivo bendare il movimento quindi devo analizzare il movimento e devo vedere quali sono le traiettorie che danno supporto al mio atleta e facendo un'analisi biomeccanica della zona interessata quindi la zona che è in Overuse devo cercare di capire che cosa è meglio per lui per supportare il movimento qui siamo all'ultima immagine vedete qui praticamente in fase di battuta e in fase di rovescio ok io avrei finito vi ringrazio per l'attenzione adesso passiamo alle domande come vi ho detto prima sto facendo tutto io e quindi devo un attimino vedere come gestire adesso questa questa parte ok allora se avete delle domande purtroppo le domande se avete fatto qualche domanda precedente ecco la vado a cercare no ok allora io adesso sono qua per rispondere alle vostre domande saluto tutti quelli che mi hanno salutato e adesso sono qui per rispondere alle vostre domande questo possiamo metterlo anche così vi siete ammutoliti allora devo dedurre che non sono riuscito a stimolare in voi allora non mi è chiaro perché ok vediamo questo allora il taping in seta ciao dalla mia grande Siracusa mi arriva la prima domanda grazie a te Rolando allora il taping in seta è un taping particolare è un taping che mi permette la sovrapposizione e questo è importantissimo perché la sovrapposizione mi permette di creare degli strati uno sull'altro e poi con l'acqua quando io mi faccio la doccia o comunque se tu pensi di usarlo su un atleta che sta facendo una gara una performance sotto l'acqua ecco praticamente mi permette una buona stabilità il cotone come si bagna praticamente si sfibra e quindi non ha tenuta io in effetti come ti ho detto quando all'università a Palermo praticamente io uso solamente nylon seta dynamic tape appunto perché per me sono quelli che ottimizzano i risultati dei vendaggi corrado comunale sì io uso il seta come dicevo come già ho spiegato perché ha una performance superiore cioè il cotone fatta la prima doccia fatta la seconda doccia ha perso tutto cioè tu non trovi più un un riscontro ok non so se avete mai usato il seta il seta è un nastro completamente diverso appunto perché ha una grande adesività c'è una colla un po' leggermente superiore e poi essendo lucido permette la sovrapposizione quindi io posso fare voglio fare il vendaggio alla spalla che abbiamo visto prima lo posso fare addirittura con tre nastri uno sull'altro come si fa anche con il dynamic tape sicuramente il più performante è il dynamic tape perché non ha stop rigido quello è una cosa fondamentale lo stop rigido stop rigido significa io tiro 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 a un certo punto mi devo fermare o si rompe ecco il dynamic tape tiro 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 e lo tirate fino in fondo e quindi non ha stress sulla cute il paziente non sente stress di taglio sulla cute vediamo quest'altra domanda la tecnica per applicare questo tipo di tape è diversa rispetto a quello classico no praticamente le caratteristiche devi sapere che è più adesivo e che ha la possibilità di essere sovrapposto per esempio ti faccio l'esempio classico hai un bodista vedo che ti vedo ti vedo vestito da runner tu hai un bodista che ha un'infiammazione del tendine d'Achille allora dopo aver analizzato tutto e quindi hai cercato di capire qual è l'origine di questa sua patologia e quindi affrontare nella maniera corretta quando lui rientrerà a correre se tu prendi il nastro in seta e fai tre strati uno sull'altro uno uno due e tre e lo metti sul tendine d'Achille e arrivi fino alla volta a plantare e i miei allievi sanno qual è questa tecnica praticamente tu hai tre nastri che non sfogliano non scivolano perché perché aderiscono uno sull'altro perfettamente oppure usi il dynamic tape il dynamic tape è consigliato fra uno strato e l'altro di spruzzare la colla spray allora andiamo a Leonardo ciao Leonardo le correzioni effettuate tramite il tape pensa che possono mantenere un lungo periodo creando un certo qual modo una modifica dello schema motorio ecco questo deve essere la tua bravura allora la tua bravura deve essere nel fare un esercizio terapeutico specifico alla problematica e ti aiuti con il nastro come stimolazione esterocettiva questa la voglio spiegare meglio se noi pensiamo di avere una abbiamo una scusa un attimo vediamo se riesco a togliere questo quindi ho una anteposizione delle spalle io ti metto un nastro al livello dietro le spalle come stimolazione esterocettiva per farti stare più diritto chiaramente se ho fatto una rieducazione posturale specifica e un esercizio terapeutico specifico il nastro continuerà questa stimolazione esterocettiva quindi spero di aver risposto quali sono altri se conosce funzionali può consigliare oltre a quello della posizione dello sciatore a esempi affini per chi ha a disposizione di sistemi di analisi sofisticati e che ritiene praticamente eventualmente anche con annesso caso clinico a redor allora io ti consiglio Francesca ti consiglio di andare nel mio sito e troverai un tesoro praticamente io lì cerco di pubblicare tutti i miei casi report che sono più significativi diciamo ecco quindi ti consiglio di andare a cercare lì e troverai tanto Corrado ciao Corrado in media quant'è la toleranza del paziente con una massa adesiva maggiore prima che si genera ecco ti posso dire che la massa adesiva è maggiore ma in effetti le diciamo le relazioni allergiche sono pochissime perché l'Asia Med è riuscita a mettere a punto una colla che è pochissima allergica la cosa fondamentale e questa mi sento di dirla perché come sapete io faccio il perito per l'Asia Med quando c'è qualche collega che ha avuto una reazione allergica praticamente mi fanno contattare da tutta Europa fra l'altro non solo dall'Italia mi fanno contattare per cercare di capire perché ha avuto la reazione allergica sapete molto spesso perché avviene una reazione allergica perché il collega ha messo troppa tensione nel nastro cioè questa diventa fondamentale per quello che ho detto prima siccome il nastro ha uno stop rigido se tu tiri e il movimento deve essere questo ma io qui non ci arrivo perché hai tirato troppo hai tirato troppo il nastro cosa succede? che il pezzo che faccio da qui a qui lo farò con una sollecitazione di taglio sulla cute e quindi la cute si arrossa quindi diventa fondamentale la lunghezza del nastro e la tensione che date al nastro andiamo a Sergio differenze cambia la prevenzione tra sete e dynamic sono due nastri diversi sono due nastri diversi sicuramente il dynamic è superiore dal punto di vista della performance e mi dà più affidabilità sugli atleti di alto livello hai visto che ho bendato il primatista mondiale paralimpico cioè quello ci ha fatto i campionati italiani ha fatto il rego del mondo con quel bendaggio lì quindi io vedo molto più affidabile il dynamic appunto perché non ha stop rigido cioè ti permette il movimento lo lascia tutto libero non hai problemi di movimento chiaramente deve essere bravo il terapeuta che lo applica perché se tira troppo è che il dynamic non viene tirato perché viene messo in una posizione di accorciamento e comunque in posizione di attivazione muscolare e quindi ha una diciamo una tecnica applicativa leggermente diversa rispetto al set del dynamic tape non si applica nello stesso modo infatti io per questa per il dynamic tape sto facendo la tecnica biomeccanica che è una tecnica come quella che avete visto nel sollevatore quindi che viene fatta secondo la traiettoria biomeccanica del movimento vediamo Massimo rispetto a Tepecarsi è visto il maggior range di tiraggio non puoi estremizzare il gesto tecnico sottoposto già a stress allora guarda è difficile spiegarlo spero di essere chiaro allora tu l'obiettivo del tapping biomeccanico è quello di supportare la traiettoria del vettore quindi il vettore che tu stai andando a bendare quando l'atleta andrà in stress perché sta facendo un movimento praticamente il nastro supporta e quindi non aumenta capito ma anzi gli fa da fermo meccanico proprio cettivo ecco estero cettivo perché gli manda un messaggio e quindi gli fa tenere la posizione ok non so se è chiaro è un po' difficile comunque purtroppo queste sono tutte tecniche che bisogna provare su se stessi uno lo prova e dice e si accorge diciamo della differenza stiamo parlando chiaramente di nastri evoluti stiamo parlando di nastri evoluti che non centrano niente con il classico nastro di cotone il nastro di cotone vi sfido a fare questa prova prendetelo e lo tirate e vedrete che a un certo punto si spacca con una forza molto limitata purtroppo dobbiamo tanto al nastro di cotone perché è stato il primo nastro e quindi dobbiamo tanto a Kenzo Case che ci ha insegnato questa tecnica che ha fatto questa tecnica per tutto il mondo ok io ho avuto la fortuna di impararle in Corea e vi assicuro che in Corea l'applicazione era già evoluta e quindi già andavamo su quello che era una visione globale tridimensionale e si imbendavano i movimenti lesivi ok quanto invece ha la resistenza del teppi in seta sottoposto a bagno e doccia senza aggiungere con la spray rispettando tutte le regole rispettando di preparazione e applicazione allora il nastro in seta quando fa della doccia praticamente l'acqua rimbalza scivola perché è un nastro che ha una consistenza appunto è seta sintetica ok non è seta naturale è seta sintetica e quando l'acqua praticamente picchia contro il nastro rimbalza e ne ne assorbe pochissima di acqua quindi è molto interessante come è interessante è il nastro di nylon che purtroppo è conosciuto poco il nastro di nylon ma tutti i bendaggi che voi vedete degli ematomi che io pubblico sono tutti fatti con il nastro di nylon perché il nylon è un nastro bielastico e quindi ci permette di prendere il tessuto in lunghezza e larghezza e quando ho bisogno di drenare un ematoma praticamente io devo cercare di prendere la cute il tessuto in tutte e due le dimensioni vediamo Sergio cosa ci dice quindi si può usare il seta anche per un decompressivo il seta si può usare anche per il decompressivo non è perché tanto l'azione decompressiva tu la fai in allungamento della parte le green se le fa ugualmente e quindi non hai in più avrai la possibilità di avere un nastro che resiste di più resiste di più all'essere bagnato alle sollecitazioni e così via è un nastro di nuova generazione diciamo chi prova e seta dopo non riesce più a utilizzare il nastro di cotone ma io direi vi ringrazio molto vediamo cosa dici Corrado non sono affatto idrorepellenti si dice che sono idrorepellenti ma se tu glielo dici alla vecchietta di 70 anni che gli hai bendato la spalla lei si fa la doccia e si trova tutta insuppata tu vedrai che ti dice che non sono idrorepellenti quindi voglio dire capito invece assorbono l'acqua e questo lo vediamo sui pazienti anziani che si stufano ad avere questa infatti io dico sempre di farsi asciugare col phon tiepido in modo da evitare di stare bagnati ok guarda per quanto riguarda le marche sai io sono il perito dell'Asia Med e quindi che cosa ti posso consigliare un'altra marca io ti consiglio quella perché chiaramente lì ne rispondo io anche perché loro se non stanno su degli standard di qualità alti io li abbandono e quindi cioè quando c'è qualcosa che non va su questo nastro io mando una mail mando la foto e gli dico vedi questa cosa non va bene e loro lo dicono subito a quello che costruisce i nastri e quindi ho una verifica diciamo immediata questo è Silvio ho perso un attimo perché dicevo rispettare la tecnica per drenare qual è più indicato come nastro per il drenaggio ho detto che il migliore è il nastro in nylon perché il nylon è bielastico e quindi ti permette una sollecitazione dell'acute in tutte e due le direzioni longitudinali e trasversali e sì allora fai il reso diventi di cotone oppure prendi e te li vendi va bene Sergio li puoi vendere vediamo Corrado cosa dice ancora se sono in cotone non possono essere idrorepellenti infatti guarda poi il discorso te lo danno te lo danno molto i pazienti tutto il resto è teoria allora la cosa fondamentale lo dico da formatore oramai navigato di tanti anni e anche con esperienze internazionali la cosa fondamentale è parlare perché tu lo fai tu ci lavori con quella tecnica e quel materiale non si può parlare di un materiale se tu non ci lavori io me l'accorgo subito adesso tanti webinar che io vedo in giro delle volte per curiosità vado a sentire alcuni webinar in giro mi accorgo che quella persona praticamente non lo usa nemmeno quel materiale perché non riesce nemmeno a tenerle in mano ho visto dei webinar sul flossing ma non sanno manco tenere in mano i flossing quindi non va bene non va bene grazie a Lucio vediamo questa ok allora siamo praticamente dei ringraziamenti io con questo webinar direi che ho finito mi sono messo in ballo a fare questi webinar anche con l'amico Corrado però mi accorgo che poi alla lunga sono un po' corrosivi quindi se voi avete qualche qualche altro argomento che volete che io posso anche organizzarmi anche perché avevo fatto non so chi di voi ha letto avevo fatto 5-6 argomenti che potevo che potevo fare come webinar ma anche il flossing anche le coppette cosa che avevo messo ancora forse il taping kinesiologico tradizionale quindi il trenaggio decompressivo stabilizzante che non è questo perché oggi noi abbiamo visto una tecnica evoluta noi stiamo parlando di tecnica biomeccanica quindi che guarda solo i vettori e basta i vettori che agiscono su un'articolazione quindi quale vettore devo mettere a riposo visto che l'articolazione è infiammata e ha un movimento disfunzionale ecco io devo cercare di andare a mettere quel tipo di tecnica devo realizzare quindi magari provate a scrivere nei commenti e io cerco di organizzarla Silvio io praticamente il prossimo libro è un libro sul sulla medicina estetica quindi ho fatto una tecnica di drenaggio per la medicina estetica visto che adesso ci sono tanti colleghi fisioterapisti che si stanno avvicinando alla fisioestetica mi è stato chiesto di fare un libro sulla fisioestetica sulla medicina estetica e quindi dovrebbe uscire adesso con tutti questi casini che ci sono stati per il coronavirus ma io penso che entro novembre dicembre al massimo sarà fuori questo libro quindi cosa abbiamo ancora qua ah magari flossing e coppette ma allora io ho appena fatto quello sul 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 trattamento mio fasciale però vedi quello sul fisio blade l'ho appena fatto i flossing che si potrebbe fare che non non l'ho fatto le coppette purtroppo sono c'è troppa pratica e quindi diventa non cioè io posso dire i principi teorici li mettiamo qua ma poi la pratica come facciamo a farlo anche perché mi sono accorto che se metti i video mi bloccano ho messo alcuni video settimana scorsa e mi hanno bloccato perché c'era una c'era una modella con reggiseno presa da dietro però mi hanno bloccato quindi vabbè comunque ci penserò via vediamo che cosa possiamo voi seguitemi eh adesso eh cercate di condividere questo questo video cercate di condividere eh la pagina iscrivetevi alla pagina mettete mi piace e così almeno rimanete in contatto anche perché adesso per i prossimi mesi io non ho in programma nessun corso ho fatto saltare tutti i corsi quindi io adesso il primo corso lo farò a settembre avevo dei corsi a maggio a giugno ma non non li farò questi corsi li rimando tutti e partirò da settembre in poi forse andò a un congresso alla fine di giugno in Ucraina molto molto interessante l'Ucraina ha molti interessi sulle tecniche che faccio io molti interessi quindi sto cercando di soddisfare il loro interesse e forse a fine giugno andrò in Ucraina e poi invece i corsi ricominceranno a settembre dovrei avere un corso in Puglia una a Palermo una a Cosenza eh vado a memoria eh eh e quindi vediamo insomma ecco va bene ragazzi è stato un piacere grazie per la vostra attenzione e grazie per aver seguito il mio lavoro come vedete sempre col massimo dell'impegno ciao a tutti ciao a tutti